di spinta ed eccolo che si presenta in un passaggio lentissimo tipico proprio del nostro amico Christian una tacca di flap fuori avvicinamento molto lento virata bassa e guardate a quanti centimetri da terra Christian riesce a pilotare questo meraviglioso modello guardate 50 centimetri da terra ha fatto l'incessione con l'applauso principale ora da abbassarsi ancora un attimino di più arampicata Christian chiedono di passare più basso più basso ed eccolo che si appresta alla massima velocità tutto il motore dentro virata stretta ed eccolo in un bassissimo passaggio con una piccola correzione alla fine alla massima velocità e di nuovo sulla pista degli amici del 250esimo squadro scegna di Montegliac benissimo preparazione della presentazione della coltello e di nuovo su non c'è, non ho un programma, eccolo si presenta di un todolento lungo tutta la lunghezza della pista con una Sniperд Sniper fai strappur dopo chiudere in piena velocità con 100 e tanti gradi a sinistra e rappresentarsi alla massima costruzione bassissima per la pista bellissimo il passaggio lineare Schneider e sta dimostrando tutte le capacità e tutta la managevolezza che questo modello malgrado peso e spinta ha ecco il risultato potenza la minima velocità guardate come il palleggio disegnando questo 8 orizzontale molto stretto centro pista leggermente plappato e adesso viste le velocità si farà vedere esattamente quanto piano e quanto basso passerà Cristian sulla pista ecco massimo controllo avvicinamento full flop incomincia ad abbassarsi un metro sessanta cinquanta trezza e un applauso vado a vedere ci siamo questo pilota bravissimo Cristian e adesso e adesso per scaricare anche i nervi bellissimi i lupi centro campo perfetto e si ripresenta come un caccia alle massime prestazioni bravo Cristian bravo di nuovo da destra verso sinistra massime prestazioni bassissimo credo che possa avere una velocità stimata intorno ai 300 km all'ora su questi passaggi guardate quanto spazio è ristretto viente a manovrare questo aeroplano Snyder prestissima carrello fuori indice che si sta preparando all'atterraggio eccolo che passa sopra di noi pronto per l'atterraggio il pilota tranquillissimo ha lasciato, ha mollato gli stick per un attimo l'aeroplano ha continuato a volare da solo virata strettissima saluta il pubblico pirisano scatemi di nuovo se siete con un altro applauso ha salutato tutti scorcherà in sottovento dai ed eccolo allineato perfettamente sulla pista via motore leggermente imbardata a sinistra correzione touchdown